ciao ragazzi oggi siamo finalmente tornati su penumbra ho un po di serie lasciate così a cazzo come penumbra the walking dead the walking dead ho un problema non mi parte il secondo capito devo vedere di risolvere questo problema e poi ripartirò subito che cosa ho lasciato più cat mario 4 che ha avuto 350 visualizzazioni non so come ma sono contento e in modo gp non credo che lo porterò avanti perché nessuno sarà il cranio di striscia compreso io quindi continuiamo penumbra finalmente dopo più di un mese e mezzo forse anche due mesi credo non lo so mi sa che l'ultimo l'ho fatto all'inizio luglio o a fine giugno quindi è passato un bel po di tempo quindi continuiamo penumbra finalmente vediamo le opzioni vabbè il video è come un video continuiamo ragazzi non mi ricordo minimamente dove erano rimasti forse devo abbassare un po il volume del gioco ah no sta già abbassato avevo già abbassato ok ah qua mi sa dove ero impazzito tipo si che ho deciso oddio ha dato una botta di lag è vaffanculo ah cioè si può passare così che cosa mi cons... aspettate mi sa che... ok è vaffanculo però dai mi sa che sono ritornato indietro ragazzi sono stupido cioè la stavo ed era di la che dovevo andare a posto un secondo ragazzi che ho minuto un po la sensibilità comandi ecco qua 2.4 va benissimo bugia è un po assai però non fa niente me la farò andare bene beh di là da salire sicuro ehm occhio un'uscita vi piacerebbe andarmi da qui e si come esco qualche cara con questa ehi dov'è? dov'è? eccolo lì quel buco non è quel buco è quel buco non quell'altro ecco non riesco neanche a saltare su una cazzo di cassa che cosa sono basso e poco atletico sono che cazzo sono? fanculo sono un elfo e vabbè come cazzo fare non saltare e mo come minchia dovrei fare non lo spieghi? ah dove devo portare queste cose beh si che sono i galatini oh finalmente no non mi devo andare qua dentro che poi c'era c'era quel bellissimo mostro quello proprio spettacolare luce vabbè il vetro è rotto l'ho capito oggi non sono proprio in forma perchè? cosa è successo? cioè ti ti vieni dallo specchio e sei dicendo non sei in forma ma se non ti puoi vedere lo specchio cioè non lo so allora questi qua non sembrano rubinetti io non dico cosa sembrano perchè poi dovrei censurare il video quindi credo eppure questi apposta lo fanno mi sa che qua facevano le qualcosa da sadomaso party orge o cazzate del G ah di qua sono uscito che bella musichetta eh calmante che cazzo? giuro che ho visto qualcosa muoversi ragazzi forse si è bugato ah si è aperto questo si apre da solo cacchio chiuditi no non si vuole più ah si si apre da solo beh possiamo andare? no non voglio andare rimanere qua ho paura di prendere questa volta non ho più torcia vediamo c'ho l'olio non c'ho manco l'olio allora mettiamo mettiamo questo ah ecco ce l'avevo già salviamo bianchezza bianchezza è sempre più difficile tirare fuori ogni volta mi sento sempre più dentro questa eccitazione pene cazzo questa tv è una merda non si rompe però la tv è in pessime condizioni hai visto? lo sapevo io sono un beggente oh attenzione fai giri guardate perché fa così? è impazzito ragazzi oddio tutti così fanno guardate ragazzi ah no questo no era impazzito solo quello si è impazzito guardate oh attenzione come giri ragazzi stanno impazzendo gli oggetti ci sono buggati ok dai olio olio oh batterie si olio mo che cosa stavo pensando amnesia che neanche ho fatto quindi non so mi faccio il controllo ah si ho fatto l'amnesia custom story però a voi non ve l'ho fatta vedere perchè? perchè già sapevo come andava a finire quindi non aveva senso farlo farlo per la pedraquo erat small orts ok adesso che ho le batterie le posso introdurre ok adesso è caro possiamo andarci da sto merda di un letto questo materasso puzza un po' meno di tutto il resto si ma è sempre pisciato come tutti gli altri oh bello ok adesso dobbiamo torci no come sei la natura elettronica ah qua il computer non credo abbia elettricità bene ok cosa dovrei fare allora mi devo prendere qua mi devo prendere qua tipo mirror's age ahhh no allora ho capito che in pessima condizione mai perchè fai io questo cosa lo voglio spostare si ho capito che puzza meno adesso mi spiegate io cosa dovrei fare acqua che cosa è che cosa è beh si dovrebbe viare adesso scusa no no è finita la musica ok oh si è credo che sia via wow chat video chat video in arrivo porca troia mi sa che mi sono punto stai girando con lo strano wow ti sembra che hai camminato un suor per arrivare qui credo che sono flattata ciao sono amabel amabel swanson e credo che sarò il tuo guide per il giorno hello posso sentire? credo che la trasmissione è solo un modo ho una webcam guarda un città che posso sentire? ho una allora ho un amaccio ho un grande ah ho un po' è l'aspirazione ha ho un uomo tu non ho nessuno tu ci si tu mi Non me ne fotte un cazzo. Ho capito, ma c'è bisogno che parli in quel modo? Di nuovo. Ho preso un appunto, ok. Possiamoci adesso? Ah no, forse devo vedere la ricerca recente. Io devo leggere il mio lavoro, la morte a cui ci... Virus, virus, chiudi con me. Tutto il letto, giuro ragazzi. Però, non capisco... Perché? No, è già finita la torcia. Ma che cazzo di torcia tengo? Come lo spiegate? Ma... Adesso si è aperta magicamente. Ah, ma ora me l'ha aperta lì, giusto. Stavo leggendo anche se non sembrava. Clicca per continuare. Beh? Oh, botta super mega... Ok. Ma perché devi parlare in questo modo? Ti fai cacare addosso ogni volta. Che cosa è successo? Aiuto. Sto impazzendo. Aiuto, mi sto prendendo addosso. Se esce quel mostro, giuro che... Butto all'ai la tastiera. Non ho capito, basta! Perché si abbassa? Ma ti dico che c'hai ragione. Non posso camminare. Ragazzi, si è bloccato. No? No? Sto facendo tutto da sola, ragazzi. Non sto capendo una minchia, porca troia. Sto impazzendo, vado solo da destra. Sì! Io mi guardo, sono anche il ventilatore. Non so se si vede. Clicca per continuare. Ok. Sono tornato normale. No, sono tornato indietro. Forse è meglio così. Ok, stiamo bene. Possiamo andare indietro e andare là sotto, no? Giriamo questo oggetto. Lo mettiamo così. Ok, basta. Ah! Di nuovo! Eh, se cominci a fare di nuovo così, giuro che ti ammazzo. Cos'è una scimmia questa? No. Oh, devo mettere la mano. Primi. Ok. Non sono più... Di... Alla. Vabbè, vedete che... Sono più stupido. Cioè, io sono stupido. Questo qua. Armory. Oh, qua ci sono delle armi. Cazzo, detersivo! Ok. Funzionerà. Ma seriamente, ci sono delle armi? Sì. Però giustamente... Io sono così stupido che non le posso aprire. Ciao, bengala. Vaffanculo. Eh no, ma io lo volevo squisciare altra... Ragazzi, mi sto prendo solo io addosso. Vaffanculo, ragazzi, mi sto prendendo addosso. Basta! Un secondo, ragazzi. Un secondo. Allora, premetto che io non ce la sto facendo più. E io, penumbra, non mi ha mai fatto così cagare addosso. Adesso c'è uno che parla e fa... E quell'altro fa... Non lo so che stava facendo. E mo' senti battuta del cuore. Già Fibrillation mi ha fatto rimpazzire. Vaffanculo! Oh, cazzo. Oh, cazzo. Giuro, mi sto guardando addosso il ventilatore. Allora. Strategia... Giovannesca. Via. Ciao, bello. Ciao, bello. No, vaffanculo, bello. Vaffanculo. Corriamo, corriamo, corriamo. Due minchie devo andare. Sto correndo senza senso. Quale mi prende, lo so. Oh, cazzo. Sto morendo. Non mi hai fatto un cazzo. No, sono morto. Non mi dica che devo ricominciare da qua. Beh. Eccolo. Via, 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 via. Via, 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 via. Mi sto guardando addosso, già faccio più. Sempre di qua. Dove cazzo sto andando? Mi sono perso. Ma mi stai ancora rincorrendo quel puttano. Ma mi prende per il culo. Ah, ma mi stai prendendo per il culo. No, vaffanculo. Ciao, bello. Bello. Oh, cazzo. No, perché credo che lo scopo sia da farmi inseguire da quel coglione. Però io devo scappare. Ma non ci riesco, porca troia. Sì, vai, di qua, di qua, di qua. Vaffanculo. Non c'è più. E vabbè, che cazzo. Oh, vaffanculo. Va, prendimi. Bugia. Oh, dove andò? Prima sono arrivato a quel pezzo. Ah, qua, qua. Qua dentro. Sì, non c'è più. Stronzo. Devo mettermi qualche maschera, qualche... Non so come fare, ragazzi. Allora. La ruginta è usata. Ehm... Alcol. Ma usiamo l'alcol? No, bugia. Vediamo, riuscirò ad arrivare... No, non ci sono... Non ci riuscivo. Ragazzi, mi sono cadato addosso. Si è aperta la finestra, la porta. Ok, non so dove andare. Fuffi. Fuffi! Ho capito! Sempre una cosa dici! Oh, vuoi che si vengono ammazzate con l'alcol? Cazzo, cazzo, cazzo. Dove sto andando? Stavo tornando indietro. Chiudiamo? Chiudiamo? Non sto qua dentro. Non sto qua dentro, eh! Non sto qua dentro, non entrare. Ragazzi, mi sto cadendo addosso. No, 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 troia, puttana, Eva, zoccola. Non ci sono, non ci sono, non ci sono. Via, via, via! Cazzo. No, con te è stupido! Meno male che è stupido. Ma mi ha visto. Ah, e ha visto se... Porca troia, aiuto! Ma perché mi sparisce quando mi blocco? Troia! Cazzo, devo fare, porca puttana! Stai zitto! Ragazzi, sì! Sì! Ragazzi! Aiuto! Aiuto! Quanto è rimasto? Quattro minuti! Aiuto! Ragazzi... Non ce la faccio più! Helpatemi! Andiamo? Io sento un cazzo! Ragazzi, non ce la faccio più! Ti prego, ti prego, apri! Sì! Aiuto! Forse è per questo che non stavo giocando più! No, non mi ha mai fatto pagare così tanto! Mi sono guardato addosso come mai nella mia vita... Come mai... Non mi ha mai visto come mai appena ombra! E' così, meglio starci lontano! No! Andiamoci dentro! Ok! Waka! Ma che cazzo stai dicendo? Mi stai impazzendo, proprio! Ok, mi fai vedere una vagina! Sì, vabbè, sei proprio un coglione! Sei contento adesso, te l'ho detto? Quello volevi? Sì, a quanto pare si... Ma ci stavo zitto! Vai, appendiamoci! No, voglio fare il mio seggio! Tipo che vado là sopra, poi là sopra, poi là sopra! Ecco! Eh, come si fa a fare... A croucharmi? CTRL! Wow! Mi sono cacato addosso, ragazzi! Mi hanno fatto tutto, bastardi! Quindi, suppongo... Ok, devo andare da qua, vero? Bene! C'è sentito l'odore di... Di pene... Piegato! Ok, ragazzi! Rincorsa! Potente! No! Ok! Ah, ho capito, ho capito! No, non basta! Ho capito, ho capito! Cazzo! C'è qualcosa di più pesante, eh? I barili, vero? Sì, i barili! Ok! Sto impazzendo! Barile? Compi il tuo lavoro! Barile! No, ma seriamente! Quanti cazzo mi devo mettere? Un casino? Un casino? Allora, uno... Poi ne metto un altro... Ma questo coso ha... A pressione, va! Solo che... Non mi basta! Però se passa la scatola Non succede nulla Che cazzo? Ah, ok! E con la vola! Ok, adesso dovrebbe essere più facile Wow! Wow! Ah, è vero, non mi posso vedere i piedi Mi l'ho scordato Come tutti i giochi che si rispettano Sì, non mi interessano queste cose Ma perché mi fate l'incoglio di me? Già sto l'incoglionito di me Ma cosa fai? Ho capito Sì, mi dici no? Stai facendo tutto da sola? Non lo sto facendo io Ok Un'altra infezione Un'altra infezione Sempre infezioni stanno Salviamo Madonna, mi ha fatto Potente, sentite Potentissimo Ok Facciamo il pro Oh! C'è proprio piegata Sta cosa Mi sa sono morto Ok Oh, calmo con i rumori Testa di culo Anche se credo che due bastano Non lo so Eh, no, no Lo so che quello si alza Lo so, lo so Rimaniamo qua A posto Oh, attiva interfaccia Che cazzo Ma che cazzo Cioè si può fare una cosa del genere? Cioè seriamente si può fare una cosa del genere? Cioè seriamente io non ho mai saputo Non ho mai visto qualcuno che lo faceva Quindi sono L'ho scoperto io che si può fare una cosa del genere Cioè non lo so come ho fatto Tu alziti dai Lo so che ti alzi No, sei troppo morto per alzarti Sì, maschera antigas Adesso posso Ragazzi ho questi inconvenienti con le videocamere Con la videocamera Con la telecamera Non perché Con i problemi di prima Perché io ho anche un cavalletto Quindi Non dovrei avere problemi Solo che Schiacci Fatemi schiacciando se posso Solo che Praticamente Non so perché Ma la La fotocamera Può registrare solo 25 minuti alla volta Quindi quando visco i 25 minuti Io non me ne accorgo Avete capito? Sì che avete capito Ok Ok Perfetto Possiamo ritornare di là? Come facciamo? Sto sentendo dei rumori Che non mi piacciono proprio per niente Ragazzi Niente proprio Zero Ragazzi Oh cazzo Va a fare culo Va a fare culo Va a fare culo È un ragno Ma che cazzo Me ne foste Cioè veramente Per un ragno Mi devo avere Adesso Dove sei ragno Che ti vengo a schiacciarci Vabbè Però tu mi fai il verso Ma non ci sei Dove in case Ma qua non c'è il mostro Beh Ragazzi Questo video finisce qui E ci vediamo alla prossima Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace E basta Grazie 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 Grazie